Ciao, mi chiamo Bianca Maria, vengo dall'Italia, da Roma e qui a Killerni ho frequentato la classe di livello intermedio, la mia teacher è Napola, mi è piaciuta tantissimo questa classe, ho fatto soprattutto speaking, listening e invece per quanto riguarda le attività del pomeriggio, siamo andati in giro per la città e per il parco con il carro e inoltre siamo andati anche per il parco con la bicicletta e mi è piaciuta moltissimo questa attività. Riguardo la famiglia, ho amato la famiglia in cui sono stata, penso che non poteva capitarmi di meglio e la signora che mi ha ospitato, Sheila, è veramente una persona in gamba e il figlio cucina benissimo, cucina benissimo anche la cucina italiana e non me l'aspettavo. Per quanto riguarda Killerni è una cittadina stupenda perché è una piccola cittadina e c'è molta natura e questo mi piace moltissimo, inoltre lo shopping è fantastico sia perché non costa molto come in Italia, come appunto nel mio paese e soprattutto da pennis o anche nei negozi di souvenir e niente, mi è piaciuta moltissimo questa vacanza.